Anche la musica fa inclusione. Per iniziativa di Endas e del Comune di Pescara nasce in Armonia la prima orchestra inclusiva ad Abruzzo. L'obiettivo è quello di permettere di esprimersi artisticamente anche alle persone disabili. La prima volta in Abruzzo è un progetto importante che ha una duplice veste. Intanto quella di sensibilizzare le persone normodotate affinché le barriere sociali e architettoniche, non è questo il caso, però quelle sociali sicuramente sì, vengano quanto prima battute. In secondo luogo vogliamo che i ragazzi con disabilità possano in qualche modo esprimersi attraverso la musica. Giovani con disabilità intellettive, motori o sensoriali, con disturbi dello spettro autistico o sindromi genetiche suoneranno fianco a fianco con musicisti normodotati e chissà se già entro Natale si potrà assistere ai primi concerti dell'orchestra. Questo è un progetto veramente importante anche per le persone disagiate e con disabilità quale gli si permette un linguaggio nuovo e un linguaggio soprattutto molto facile per loro di espressione e di arrivo. Spero di avere tante altre di queste iniziative perché poi aspetteremo anche il concerto, come stavamo dicendo prima, il concerto per vedere il punto di arrivo di questi ragazzi.